Ciao a tutti ragazzi, io sono ItalianGamerita024 e oggi siamo tornati sull'account in cui sblocchiamo tutti, maxiamo un account letteralmente con solo le casse su North Brawler e stiamo già a metà di Brawler Buona? Nel primo episodio, in 12 minuti Quindi, casso mega! Velocemente! Dai! Non è che schifo, buono Buono Ok Vorrei avere io un stock out Non è accanto tutto maxato con 036, ammazza, sì? Con le casse Finite, gratis Le dovrebbero rimettere le casse Saltellino! E' un asino 5-6 E' poco che deve andare male Tutto questo episodio abbiamo trovato di tutto e adesso niente Ancora 10 Casse in armi? Niente Beh, io a casa sto prendendo Casse in armi? No E' un casso mega? Niente Casso mega Allora, vorrei prendermi una bella mega cassa ora Un tanto di ora ne ho proprio in abbondanza Infatti, raga Mi inizio un po' a livellare i brawler che ho Nooo, ma la nuovazione Deve fare i gadget disponibili Sì Sì Nooo, ma equipaggiamenti Sblocca Ma ho abilità sui Mamma mia Ok, allora mi è inizionita Tanto dovrei avere abbastanza potere Per farmi almeno a livello Mamma mia Non ho potere E' un po' a livello E' un po' a livello Vabbè Mi faccio il primo E poi Torni a quello che sto facendo Apriamo Casso mega Nuovo brawler Ah no, gadget E' vero Ma potrebbero essere anche gadget Scelta abbastanza stupida da parte mia Dove che prima o poi la dovevo fare Quindi Ma possono essere anche star power Dai, va bene Brawler No, dopo gadget Cavolo Chi diamo punti a regia Direi a Shelly Ma che cosa fa? E' vero Ma quando troverò Io un brawler Tutte star power Oh no Sono fregato Si può Montare i brawler A livelli inferiori No? Ok No Però Sbloccono tutti Che ha già già stato I cordicelli No, qua un brawler Me lo deve cacciare Forse No No, no Voglio un brawler Bello Capito Sandy Sto adorando questo gioco Ho trovato Sandy Va bene Mi sto stupendo Perché non so brawler Forse sono super normale Eeeh Mol po' zio Diamo 12 skip Potrebbero essere I gadget Ma un gadget Un brawler Ok Ora li sto trovando I brawler Ho bloccato un baron Gadget Vabbè Io non so Quanti gadget A star power Mi rimangono No, però ci sono 6 brawler In cui gadget A star power Non li ho sboccavi Quindi Meglio così 14 skip Ma siamo pazzi Non possono essere 4 gadget Ne ho fatto 3 brawler Però Leo E' un altro leggendario No Mitica Per te la da Leo Let's go Perché io Proprio leggendario Voglio Sicuramente Ancora Non li ho finite Quindi Dopo Devo vedere Quanti Pizzata Io me la voglio Maxare Shelly Proprio 11 skip Altra Gadget Un brawler Brawler Ok Manca poco E' una serie Di apici Forse nel prossimo episodio Lo finisca la serie Forse No no sto scherzando Magari trovo tutti i brawler Però dopo devo trovarmi i gadget Star power Cioè devo trovarli Mi papà Poi la sottoline Poi la sottoline Fatti gadget sta parola che sto trovando peccato che nelle casse non si possono trovare gradici vabbè si trovano direttamente i brawler pure se i gradici aiuteranno ok si tappa ancora niente godiamo Brock non devi skip star power ok abbiamo finito il gadget di star power di scelta intanto meglio così vabbè che il gadget non star paura ogni tanto non fanno male aiutano sto sto mancano quattro epici eh dopo potremmo trovare da mitici insomma e poi dalla situazione si fa beh interessante no? ah adesso rega mi sa che trovo solo brawler perché vorrei aver finito con il gadget star power quindi io puro voglio andiamo vado di cassa a brawler ok però tipo non so brawler come fa ad avere il brawler con tutti i danni precisi in anteprima se è un mese prima e tra me vabbè non so una domanda che ci dobbiamo fare niente vabbè vabbè si so intanto vediamo quanti blowers so 52 52 52 intanto mi devo accettare su tutti i gadget del sapone si meglio così ve lo dico io meglio così ehm cazzo mega dobbiamo fare i saltelli rega e stavolta lo apro con mento trovo tre brawler 2 3 si è aperto da sola ma comunque non ho trovato niente letteralmente non sto trovando niente niente ma niente proprio niente boh boh non trovo brawler io non trovo brawler duh tuttutu turuduro tuttutu 3 120 niente diamone a niente che servono molto a niente wow brawler finalmente gelindo questo è per ma ancora nel titolo sicuramente scriverò tra parentesi l'era 12 21 trovo da gelino sicuro diamo a bo di punti energia io li do brunner a casa sinceramente tanto prima o poi dovrò moxarli tutti quindi diamo di accolto i punti energia sam non me ne ero manco accolto lo schifo non ci fuso mi ha avuto un po quell'effetto sorpresa cassa enorme che cosa è successo vabbè no cassa è bruci direttamente dai cassa è enorme meca cassa no niente lo diamo a jesse diamo a jesse basta apri mie cassa è non mi prende quello meca ok niente proprio c'è vorrei averlo io questo accanto vorrei averlo io tutti questi brawler sul mio account principale cioè li voglio io datemi brawler sul mio account principale datemi brawler datemi brawler datemi brawler datemi brawler datemi brawler doppio di tutto nuovo brawler yeah questo spike è degna di esistere allora dai nuovo mitico mortis bello mortis spero di sbloccarlo un giallo doppio brawler pomo abbiamo finito gli epici ed ecco un altro agendario siamo a 7-11 ma ne manco una guata ah forse anche in questo episodio no non li sbloccheremo tutti in questo episodio perchè mancano di nuovo 20 brawler vediamo quanti ne mancano più meno si più di 23 brawler e quindi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao 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 ciao